io mi fido degli italiani che stanno rispondendo alla grande non voglio imporre loro nuovi obblighi o nuove restrizioni chiederò a draghi che intenzioni ha lo ha detto il leader della lega matteo salvini al termine del consiglio federale del partito rispondendo a chi gli chiedeva se fosse favorevole all'estesione dell'obbligo di green pass agli statali i governatori hanno ragione ha poi spiegato salvini dicono che pensare al green pass per il trasporto pubblico locale è una follia e quindi mi auguro che nessuno voglia complicare la vita milioni di italiani perché ci sono ancora milioni di italiani che per scelta o impossibilità non sono coperti gli italiani che non hanno bisogno di obblighi di multe o di paure volontariamente hanno scelto di vaccinarsi fidiamoci degli italiani se si vuole permetterli per grandi eventi va bene ma non complichiamo la vita milioni di italiani ha spiegato a tg2 post siamo tra i paesi più vaccinati del mondo ha aggiunto fidiamoci degli italiani la lega chiede il tampone rapido e gratuito per tantissime persone che sono in difficoltà smettiamola di parlare di chiusure di obblighi